La polisportiva due principati annuncia il primo colpo di mercato. La società ernina infatti ha ingaggiato la centrale Marilyn Strobe, classe 89. Vicentina di nascita, ma con un bagaglio di esperienza maturato soprattutto lontano da casa, Strobe eredita il nome della creatività della madre, perché le sono sempre piaciute le cose originali. Ha grinta e personalità, non è una regista, ma serve un assist. Se in A2 si azzeccano pure le straniere, c'è da divertirsi. Io invece sono italianissima, scherza, mi scambiano per tedesca, ma ho un cognome del sud e ci resto perché la P2P è garanzia di serietà e solidità. Grazie al club per la fiducia, saluto con affetto i nuovi tifosi. La carriera inizia nel 2004 con la Strobe che passa giovanissima al Vicenza Volley in Serie D. Appena 16 anni colleziona presenze nella squadra di Serie A1, della quale diventa bandiera quando Vicenza nel 2010 retrocede in Serie A2. Con le nazionali giovanili vince il bronzo all'Europeo Under-18 nel 2005 e l'oro all'Europeo Under-19 l'anno successivo. Non è alla prima esperienza in Campania e neppure nella provincia di Salerno. Prima di dire sia, Baronissi aveva infatti giocato a Sala Consilina e del Reduce dall'avventura con Volalto Caserta, ultima in ordine di tempo. In mezzo, tanti muri a Scandicci, Villaverla e con il Volley Forlì, conquistando la Serie A1 e alzando la Coppa Italia di Serie A2.